Benvenuti all'antica corona reale a Cervere, siamo in Piemonte, questo ristorante ha quasi 200 anni di storia, qui siamo nel reparto dei gressini e del pane dove Federico Boria sta facendo un pasto per i gressini che andremo a vedere tra poco, mentre invece Fabio in galliniera sta facendo la pasta fresca del Piemonte, della zona vicino ad Alba, dove a ottobre, novembre faremo il tappo bianco, quindi cominciamo magari dal tagliarin, tagliato dal coltello, i gnocchi di patate e i ravioli ai tre arrosti tipici del basso Piemonte, questa è tutta pasta fatta in casa fresca tutti i giorni, 365 giorni. Nel frattempo stiamo facendo le pagnotte di pane per il servizio e adesso Federico comincerà a fare qualche gressino stirato torinese, il gressino ha 200 anni di storia anche lui, viene fatto unicamente stirato a mano, in questa zona tipica del basso Piemonte, adesso vi facciamo vedere l'esecuzione, questi gressini lievitano tutta la notte la pasta e cuoceranno il forno a 250 gradi per 6 minuti. Abbiamo anche un reparto per la cultura legna che è dove finiremo di fare il pane, quindi vi invitiamo poi a mangiare un piatto di tagliarin o trattufo all'antica torna reale a Cervere. Grazie!